Che succede? Sembra io Ci nasconde qualcosa Qualsiasi cosa ci dirà, resterà fra noi La signorina ha avuto un problema con una persona Alla signorina piace giocare a Ladybug e Chat Noir con la sua amica Sabrina Due giorni fa mi ha chiesto di interpretare il ruolo di Superbaffo Superbaffo? Un'idea della signorina Chloe Superbaffo vuole affibbiare a tutti gli abitanti di Parigi degli enormi baffi Wow, un caso da pelo e contropelo Ah, continui la prego La ringrazio di avermi concesso questa intervista dedicata all'uscita del suo nuovo album, signor Stone Potrebbe dirci a chi Jughead Stone! Ladybug, che cosa ci fai qui? Quando ho saputo che c'eri anche tu, immaginavo che avessi voluto salutarmi Così sono passato a trovarti Brava, hai fatto bene Ehi, ma che cosa hai fatto ai tuoi capelli? Oh, il colore che avevo prima era orrendo Questo è molto meglio Non trovate? Ho un po' di tempo da perdere, cara Nadia Sono sicura che sarà lieta di intervistarmi Ehi, un momento Credevo che fossi passata solo per salutarmi Sì, infatti, dove eravamo rimasti Come ha osato spacciarsi per me E l'avrebbe fatto anche altre volte Diciamo che la venera Chloe, ho trovato super baffo Chloe? Ma... Lei non è Ladybug Si è presa al gioco di me Ma che sta dicendo? Sono proprio io Ladybug Guardi Scusa io, Chloe Come potevo saperlo? Questo è il tuo problema Tu non sai mai niente di niente Perfino il suo coccodrillo è molto più intelligente di te Vattene Non voglio vederti mai più